La sala cinesca è quasi completamente fuori uso, la porta d'ingresso e due distributori automatici di DVD completamente distrutti. Il bilancio di un rogo che nella scorsa notte, poco prima della mezzanotte, è stato applicato al video noleggio Max Video di Massimo Cappellani in via Verona 23 nel quartiere Santa Chiara di Brindisi. L'allarme è stato dato da alcune persone che passavano nei pressi della videoteca che hanno immediatamente avvertito i vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai pompieri, anche una pattuglia della polizia. All'arrivo delle forze dell'ordine le fiamme avevano però distrutto la facciata esterna del negozio e penetrato le due casse di distribuzione arrivando al denaro e al resto del contenuto. Al termine dell'intervento per lo spegnimento delle fiamme la facciata è risultata completamente annerita e il danno è stato rilevato così come l'origine dolosa. Sono state infatti rinvenute tracce di liquido infiammabile con il quale i responsabili avrebbero cosparso la sala cinesca e l'interno dei distributori automatici. Non ancora noto l'ammontare dei danni che risalirebbe a svariate migliaia di euro. All'esterno del locale una telecamera di videosorveglianza, se accesa questa notte, potrebbe aver ripreso i malviventi durante l'operazione criminale. E il secondo incendio doloso in un mese è proprio in via Verona dopo quello del 7 aprile scorso alla tabaccheria che si trova proprio al numero civico precedente, quello della videoteca. Le indagini che starebbero tenendo conto anche della pista estorsiva sono state comunque avviate a 360 gradi. Grazie.